...Vadiglia, traversone, colpo di testa di Desisti che mette fuori aria, è andato incontro alla palla a Polinsegna. Riva, sul lancio di Polinsegna, troppo tardi per il tiro, la palla era molto lunga, Riva prosegue l'azione. E c'è il pareggio di Domenghini, sul passaggio di Riva, Domenghini ha tirato da posizione angolatissima, ecco lo rivediamo, forse c'è stata una deviazione anche del terzino Bultman che ha messo fuori causa Calderon e l'Italia ha pareggiato sul tiro da lontano di Domenghini. Domenghini ha pareggiato al venticinquesimo nella stessa porta dove aveva segnato contro la Svettia il nostro primo gol della Coppa Rimè. C'era stato, come avete visto, un lungo lancio di Polinsegna arriva, però Riva aveva raggiunto la... Grazie. Grazie. Grazie.